Dallo studio distribuito di Gump Media Production Notizie di tecnologia Alistair digitale Questo è Digitalia Settimana del 13 marzo 2023 Come va in pezzi un social network? Il crack della Silicon Valley Bank Il social network semi-automatico Ma anche Spotify, VR, Monaci Tibetani Questa è molto tardo e scaletta per un'ora e mezza Dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana Dalle mie studio Liguria 1 di Sanremo Qui a Franco Solerio Allo studio di Milano Isola Michele Di Maio E dallo studio di Milano Città Studi Francesco Facconi Buongiorno cari, buongiorno a tutti Bentornati su Digitalia Bentornati anche ai miei colleghi Francesco Facconi e Michele Di Maio Sono io Eccoci Esatto, proprio tu Ma prima di tu parliamo con lui Parliamo con Francesco Che per aprire Ci ha messo in diretta praticamente tre secondi Prima di cominciare un articolo E poi me l'ha anche decantato In pretrasmissione gli ho detto Ah sì, adesso senza che noi ne sappiamo niente Ci dici che cosa hai messo lì Che cosa è stato Intanto leggi il titolo Come si intitola quest'articolo? Your password is shit Come fai a sapere la mia password? Esatto Allora, è una cosa che è bellissima che è uscita questa campagna pubblicitaria della SSF Una compagnia svedese anticrimine che ha messo dei cartelloni pubblicitari In realtà un po' di tempo fa Che ho scritto appunto Your password is shit O fucking isn't safe O cose del genere In realtà chiaramente Le parole indicate come password Scegliendo queste frasi buffine Abbastanza provocatorie Dalle password più utilizzate in Svezia Le vedo ora Quindi questa cosa Ha fatto sì che un sacco di gente sia andata a controllare Se la loro password era sicura Scoprendo che la risposta era no Però insomma molto carina e molto divertente Vi leggo solo la prima La prima dice Dick isn't hard enough Tecnicali da tutti Viva la Svezia Esattamente Eh oh ragazzi Sono cresciuti Senza il dominio ecclasiastico per secoli Come abbiamo avuto noi Sono un po' più così Don't trust mom with your secrets Fucking isn't safe Fucking isn't safe È la cosa più bella Mamma mia che roba Mamma mia che roba Vabbè questo finisce dritto dritto Nella copertina di capitolo Non di episodio Ma di capitolo E direi che però possiamo cominciare Con le cose serie Ma quando le cose serie Intanto non ho messo La colonna Mish in fondo E quindi non esiste una puntata di Digitalia Senza la colonna Mish in fondo Ah non parlavamo solo di argomenti minori Peccato Allora raccontatemi sta roba Dei buddhisti su TikTok Che credo che sia seconda Solo ai fascisti su Marte Però un po' più reale Dei fascisti su Marte È questo articolo Che è uscito Sul Rest of the World Che è una testata Di cui forse abbiamo anche Già parlato Che si occupa Si occupa appunto Di coprire Quelle che non sono I paesi mainstream Quindi in questo caso Parliamo della Cambogia Esatto Come la Svezia È particolare nella Cambogia Quindi siamo nel sud-est asiatico Immaginatevi tanto tanto caldo Tanto tanta umidità Ci sono i monaci buddhisti Che fanno i videini su TikTok Che non sono necessariamente i videini simpatici su TikTok Però Anzi il loro obiettivo È quello comunque di portare avanti il Dharma La parola del Buddha È leggessa del Buddha Però anche su TikTok Ovviamente non è che fanno tanto i balletti su TikTok Ma c'è qualcuno che comunque combina Diciamo la lezione un po' più seria Con qualcosa magari di un po' più leggero Insomma cerca di portare il verbo All'interno di quello che è il formato di TikTok Esatto Anche perché poi stiamo parlando di monaci piuttosto giovani Quindi si parla di questo monaco Boppisei Che ha 22 anni Quindi assolutamente un genzer Che è abituato magari a parlare tramite i social In un certo tono E quindi sono arrivati i monaci matuse Esatto No ma infatti perché ne parliamo Qual è l'argomento in realtà di questo? Non tanto probabilmente il fatto che facciano Questi post su Twitter Quanto il fatto che ci sia un'interrogazione in realtà Ancora senza una risposta ben definita Nel senso che la dottrina buddista Impedirebbe il fatto di fare una serie di attività Fra le quali mettersi in mostra E l'essere Influenzare direttamente L'essere su TikTok Con Qui si parla di 130.000 follower Comunque Con un pubblico importante Nel quale l'obiettivo è mettersi in mostra Pone un interrogativo Ok Dove siamo? Cioè qual è il confine Fra il nuovo Modo di comunicare Comunque un valore religioso Un valore importante Un messaggio La dharma Come diceva giustamente Michele Con quello che invece è La vecchia definizione comunque Della regola Sì poi come dire Il buddismo Ci sono varie scuole di buddismo Quindi in realtà Questa è una di quelle Anche il concetto stesso Di monaco buddista Comunque è molto diverso Da quello dei preti Cioè non sono neanche Monaci a vita spesso Ma comunque possono mettere E togliere gli abiti Gli abiti civili Però è interessante Come appunto Una religione che poi È come dire Diciamo che più fluida Rispetto al cattolicesimo Che invece È bella strutturata Con un capo E una gerarchia Oggi si stia facendo Delle domande Anche in maniera Secondo me Anche abbastanza Abbastanza aperta Su quale debba essere Il confine Tra il Portare il verbo Alle popolazioni Che poi In Cambogia L'articolo parla Comunque di Percentuali importanti Della popolazione Che oggi usano Usano TikTok Quindi perché non portarlo Anche adattando Un minimo Un minimo Il linguaggio Ecco Poi C'è da dire Che in realtà Il buddismo Da questo punto di vista Qua si parla Il buddismo Terevada Che è quello Della zona Appunto Del Cambogia Un altro Delle tante correnti Perché appunto Sono diverse Del buddismo Quella Col famoso Dalai Lama Dalai Lama È un personaggio Che comunque Si è fatto molto notare Parlando con Certe persone Facendosi vedere in giro Per cui in realtà C'è un'apertura Ultimamente Di self-promotion Di volersi diffondere Anche grazie ai nuovi media Anche a nuove tecnologie È interessante Comunque sia Se ne parli Ecco da questo punto di vista Non ho mai capito Se il buddismo Prevede Qualche forma Di proselitismo Nella sua forma Lasciamo perdere L'online Perché credo Che poi Il succo del discorso Sia quello Cioè Buddisti Che ti suonano Il campanello Tipo il testimone Diceva Non li ho mai visti Però non so Ecco Se 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 il proselitismo Appunto Sia un qualche cosa Di Previsto Incoraggiato Neutro O addirittura Vietato Perché poi Alla fine dei conti Quella su TikTok Al di là Del culto Della singola persona Se l'account È gestito Da una persona sola È un discorso Solo di Appunto Di marketing La parola proselitismo Forse non è corretta Ma Quanto l'insegnamento Ok Perché In un modo diverso E no No Perché l'insegnamento L'insegnamento C'è Ma presume La volontaria adesione Cioè io Faccio Faccio Mi faccio La mia camminata Di otto ore Lungo le pendighe Dici dell'Himalaya Arrivo Davanti al monastero Sto in ginocchio Lì in silenzio Sei ore Dopodiché mi fanno entrare Chiedo per piacere Mi insegnate E allora lì c'è L'educazione L'insegnamento Del buddismo Però io ho voluto Fortemente Ricevere l'insegnamento Invece Sfoglio TikTok E trovo uno Perché l'algoritmo Ha detto che quello lì È figo E lo guardano in tanti Che Mi parla del buddismo Mi insegna le masse Del buddismo Eccetera Quello lì non è insegnamento Quello è proselitismo È diverso E poi Sì Boh Allora No Nel senso Credo che nel buddismo Non sia particolarmente Previsto Un qualche tipo Di proselitismo Poi vabbè Magari In alcune situazioni La situazione Può essere grigia Però Nel momento In cui si tratta Di Io che ti Io monaco È arancione Non è grigio O asseco Dipende Anche lì Dipende un po' Dal paese Perché in Birmania Ad esempio Sono più color zafferano Sì ma si picchiano da matti Gli arancioni e gli zafferano Non si sopportano Se le danno Quando fanno il derby Poi non ne parliamo Esce qualcuno Sempre con le gambe rotte Sì sì E poi tutte le volte Che mi dite d'arma Mi viene in mente Lost Non so perché Lost E da quando Ho iniziato a leggere Il primo articolo Ho detto Non devo dirla Non devo dirla Non devo dirla Viva le VHS Esattamente Va bene Comunque le religioni Sono questa cosa bellissima Che non fa mai litigare Le persone Come questi cattolici Che hanno spento Che hanno speso Milioni di dollari Su Per comprare I dati Dalle app Che Tracciavano Per tracciare I preti gay Una di quelle cose Che Oh che bello Ma proprio il messaggio Lo diceva Gesù Proprio Mi raccomando Andate E tracciate Su internet I preti gay Perché dobbiamo Punirli Isolarli Venite con me Dimentati tracciatori Di anime Credo ci sia Dobbiamo punirle Una cosa che hai aggiunto Tu qua Diceva solamente Che hanno speso Tutti questi milioni Di dollari Per cercarli Basta Esatto E denunciarli Poi alla chiesa Cattolica Locale Questa è una tua Interpretazione No no Credo ci sia Abbastanza Certo Nell'articolo Che è un'inchiesta Del Washington Post E fa riferimento In particolare A un gruppo Conservatorio Di conservatori Cattolici In Colorado Poteva succedere ovunque Eppure è successo Negli Stati Uniti Si chiama Catholic Lady And Clergy For Renewal Dove Renewal Vuol dire Andiamo a cercare I gay E denunciamolo E denunciamoli All'autorità Locale Cattolica In realtà Nell'articolo Poi si parla Molto di questo Gruppo Di come sia Di come Abbia preso Comunque Una parte Importante Di questi soldi Non si sa Non si sa bene In realtà Da dove Li abbia presi Si parla genericamente Di un data broker Però questo Comunque fa capire Anche quanto sia Abbastanza facile Andare a recuperare Dei dati Dei dati Molto importanti Molto importanti Come quelli Della location Che Come dire Possono essere In un certo modo Anonimizzati Però Nel momento in cui Vai a ricostruire Magari La storia Di un determinato punto Riesci anche A dargli Hanno fatto esattamente Quello che Lo stesso Washington Post Se non mi ricordo male Aveva fatto Con quell'articolo Era il New York Times Se non ricordo male Quell'inchiesta Comunque Fondamentalmente Hanno preso i dati Di una serie di app Di dating Dedicate ai gay Principale Di quale Grinder E le hanno incrociate Con Dati di geolocalizzazione Riguardanti Zone Dove c'erano Le chiese Seminari E Altre attività Che A cui Il clero A cui partecipa Il clero E con questo incrocio Qui apposta Per andare A identificare Le persone Quindi a De-anonimizzare Proprio come Spiegava L'articolo Del New York Times Qualche tempo fa Ma gli esseri umani Come sono Come sono Delle persone Candide E soprattutto Questa Questa cosa Questa cosa Che esistano Dei data brokers E degli ad exchanges E che con questa Mole di È una roba Non lo so Io penso Che Dovrebbero essere Quelle cose Che fanno scandalizzare Esattamente Come l'esistenza Della pedofilia Una delle cose Che mi ha colpito Di più Questo articolo È che Non c'è Nessuna legge Americana Che lo proibisca Ed è lì Addirittura Ancora di più Cioè siamo ormai Per fortuna In Europa Un po' Di tentativi Di proibire Queste cose E poi non so Quanto efficaci In America Stiamo ancora A tutto è possibile Prendere dati Venderli Comprarli Unirli E così Vabbè Intanto L'ostegista Mi scrive Su Su Slack Che Lo shakubuku Letteralmente Spezzare e sottomettere Nel buddismo Nikiren È la prima azione Di rispetto Nei confronti Degli esseri umani Sì ma Il buddismo Nikiren Non conta un cazzo Lo sanno Questo è lo stagista Dai due frustate Lo stagista Va bene Allora Dalla religione Alle banche E siamo È un'altra La religione Del denaro È un'altra religione Stavo per dire Esatto Con degli idoli diversi Siamo passati Dall'arancione Al verde Ma alla fine Dei conti Non cambia Poi tanto Silicon Valley Bank SVB Panico Tracollo Tra giovedì E venerdì Corsa Alla banca Corsa Al denaro Per ritirare I depositi Nel momento In cui Nelle Chat Che raggruppavano Investitori E Personale Impiegato Nelle start up Hanno iniziato A vedere circolare Su queste chat Appunto La voce Che la banca Era in difficoltà La Silicon Valley Bank È una banca Molto particolare Perché È una banca È la banca A cui si appoggia Fondamentalmente Il 50% Letto Che è una cifra Colossale Delle start up Della zona Della Silicon Valley E la corsa La famosa Corsa Gli sportelli Che è nata Come dicevi tu Attorno Tra mercoledì E venerdì Anzi Diciamo Il panico È partito Venerdì Venerdì Su quelle voci Di cui si parla Su voci In realtà Come dico Il chiacchiericcio Relativo Alla vendita Da parte Di SVB Di una serie Di securities Di titoli In perdita Perché Stavano vendendo Dei titoli In perdita Perché Con l'aumento Dei tassi Di interesse Da parte Delle banche centrali Compresa La Federal Reserve Gli investimenti Che la banca Aveva In Come dire In pancia Rendevano Comunque Il rendimento Medio Di questa banca Era di sotto Del rendimento Medio Da parte Del Dei titoli Dei titoli Di stato E quindi Han deciso Di liquidare Di liquidare Una parte Di questi Di questi Assi Sì Due miliardi E mezzo Di dollari Una cosa simile Esatto Una robetta Come io stamattina Quando sono andato a fare la spesa Pensavo la brioche al bar Esatto Vabbè Ovviamente La banca Era quotata Venerdì Le azioni Sono stato fermato Il trading Di queste azioni E sono arrivati Non mi ricordo Qual è La Federal Deposit Insurance Corporation Che deve essere Tipo Un qualche tipo Di consob Degli Stati Uniti E ha messo Una bella sbarra Davanti Alle porte Di questa banca Creando poi Non pochi problemi Non solo Alle aziende Ovviamente Ci sono vari livelli In cui le aziende Poi della Silicon Valley Erano coinvolte Con questa banca Da chi Teneva Propri fondi Quindi tutte le start up Che Ah figata Ieri Ho recuperato 50 milioni di dollari Da Angel Investment Ah Andiamole a depositare Nel mio conto Nel conto Dell'azienda Poi da quel conto E si sono trovati Il giorno dopo Che appunto Non potevano Non potevano La cosa interessante La cosa bella Rispetto a Bella Tra virgolette Rispetto a Corse allo sportello Precedenti Che sono momenti Decisamente drammatiche E che queste Essendo state vissute Da persone Che lavorano Sulla rete E hanno un certo tipo Di attitudine A condividere Sui social Le loro esperienze Anche lavorative Abbiamo dei resoconti Che sono Che sono quasi Sono toccanti Dei resoconti Ora per ora Di gente Che è stata svegliata Nel cuore della notte Gente magari Responsabile Di una start up Che dall'oggi a domani Si è ritrovata Senza la possibilità Di pagare gli stipendi Ai propri dipendenti E che quindi Di ora in ora Cercava di capire meglio Nel cuore della notte Capire se la banca La mattina Sarebbe stata ancora aperta Cercavano con I meccanismi Del banking online Di spostare I propri capitali Alcuni conti Riuscivano a svuotarli E a spostarli Su altre banche Altri no Con questi momenti Di angoscia Insomma Si riesce quasi A viverli In prima persona Il problema Era a rischio Di contagio Anche perché Le banche Il sistema interbancario È abbastanza Connesso E soprattutto Potete immaginare Start up Silicon Valley Bankman Fried Vi ricorderà Qualche cosa Una buona parte Delle start up Che avevano I soldi Lì sopra Sono start up Dedicate a strumenti Di finanza Ma non solo Fra l'altro 15 anni fa È fallita Lehman Brothers E quella Ce la ricordiamo tutti È vero che è una cosa Molto diversa Era una cosa Era un pochino diversa Ma è anche vero Che Come dimensione Della prima banca Che è andata a fallire Che era la Washington Mutual Bank Più o meno Era delle stesse dimensioni Un filino più grande Per cui Comunque sia un po' Di richiamo E di paura Che ha Certo Finanza Criptovalute E robe del genere C'era Un ancora aumentato Rischio Di contagio Perché avete visto Già lo scossone Dopo il fallimento Di cui parlavamo Prima E quindi qui Immaginatevi Se vanno Iniziano ad andare A gambe a larga Coinbase O robe del genere Panico vario Le nostre borse Peraltro L'ho risposto Malissimo Perché ovviamente Lasciandosi Non è stato un buongiorno Per i titoli Più dal panico Di quello necessario Perché alla fine Dei conti In realtà La situazione Europea Era ben diversa È fallita Una banca New York Forse era quella Che citavi tu Francesco Come contagio E questo Ha fatto decidere Al governo Americano Di intervenire In prima persona Per riproteggere Tutti i correntisti Anche quelli Al di là Sì Soprattutto Anche perché Garantendo No dicevo La legge negli Stati Uniti Copre i depositi Fino a 250 mila dollari In Europa 100 mila euro Vado a memoria Poi Vabbè Poi una banca Capite che la banca Della Silicon Valley Comunque Buona parte Dei correntisti Avevano più Di 250 mila dollari Quindi diciamo Che ci sono stati problemi Oggi ho visto Che è intervenuto Anche lì Non so se la stessa agenzia O altre agenzie Del governo Degli Stati Uniti Per vedere Se è possibile Far intervenire Altri sistemi Di assicurazione Del mondo bancario Se non mi sbaglio Ho garantito L'intero capitale Aprendo una nuova banca Per riuscire a gestire Tutto il capitale A quel punto poi Tranquillizzando Temporaneamente Però no che non è Bail out Non è un salvataggio Assolutamente La banca fallisce I dipendenti perdono Il lavoro I manager In realtà sono stati Tutti riassunti Da questa nuova Società bancaria Insomma Ma siamo a lunedì Di una cosa Che è successa Di venerdì E quindi Comunque si è ancora Tutti in movimento Nel frattempo È fallita Anche la filiale inglese UK Della Silicon Valley Bank Anche lì Inizialmente Sembrava che fosse staccata È una filiale Molto piccola Rispetto a quella americana Se l'è comprata Una delle principali Banche inglese Per una sterlina Che ha recuperato Quindi il Ci saranno Devevano comprare noi Scusate Ma tu hai sterline Noi abbiamo solo euro Quello è il problema La Brexit Il problema Io due sterline Gli avrei date Ma Il problema Tutto questo È dovuto anche A una riduzione Della regolamentazione Per quello che riguarda Le banche Le banche regionali Quindi sì Alcune cose Forse abbiamo imparato Dalla crisi Di 15 anni fa Su altre meno E quindi Nel 2018 È stato Stato Trump Che aveva Firmato Questa legge Per ridurre Il Diciamo L'attenzione Posta Sui conti Delle banche Regionali In particolari E questa Era uno Di quello Ci saranno Ci saranno Delle grosse Polemiche Nasceranno Delle grosse Polemiche Perché ovviamente Lì c'è Come sempre Si vuole dare E c'è Una connotazione Politica Sia nel voler Salvare Che non Voler salvare I correntisti In realtà La legge americana Quella del limite All'assicurazione È una legge Che prevede Che nello spirito Salva i piccoli Correntisti Nell'idea Che i grandi Correntisti Cioè I grandi Patrimoni Siano in mano A delle persone O a delle istituzioni Che sono in grado Di in qualche modo Difendersi Dalle malversazioni Delle banche Mentre i piccoli Correntisti Mettendo i soldi Alle Bamas Sì Comunque Conoscendo Nei meccanismi Avendo più di una banca Capendo Quando una banca Nello spirito È quando una banca Sta malversando E Il fatto Di pagare Di pagare Il governo Sarà Foriero Di polemica Perché Ovviamente Bisogna capire Da dove escono Quei soldi Qualcuno dice Che in realtà La crisi Era solo Di liquidità E quindi La banca Ha asset Non liquidabili In tempi Velocissimi Ma comunque Sufficienti A coprire Tutti quelli Che erano I debiti Della banca Nel qual caso Il contribuente americano Ci mette zero Ma se questo Non fosse vero Il contribuente americano Mette i soldi Per salvare I soldi Di Non so L'angel investor O stramiliardario Che ha investito Nella startup XY Non è neanche bellissimo Ecco Specialmente Da parte Di un Governo Democratico Di sinistra D'altra parte Però è giusto Salva così La swap Che gli fa arrivare Quello in bicicletta A casa Che gli porta la pizza È fondamentale Il contribuente Medio americano Effettivamente Sì Tu lo dici Ridendo Ma in realtà Effettivamente Provocazione leggera La Silicon Valley È un bacino Di voti Gigantesco Per il partito Democratico E quindi Anche le polemiche Li avete salvati Perché sono quelli Del vostro Sono gli amici Del vostro partito Vabbè Ne vedremo Delle belle Sono cacchi lost Loro Ma parlavi di cripto Qualche cripto Comunque sia Non ha apprezzato Quello che è successo Di fatto Anzi Si parla proprio Di una stable coin Quindi una moneta In teoria Legata al dollaro Che Si è scoperta A avere un sacco Di una Buona parte Di fondi Si parla di Circle All'interno Di questa banca Quasi 3 miliardi Quindi Forse persi Non si sa Cioè sono lì Arriveranno Torneranno Boh E nel frattempo Il Circle Appunto USDC È crollato A 081 Per una moneta Che dovrebbe stare Fissa a 1 È un qualcosa Che chiaramente Ha colpito Il mondo delle cripto Gli stable coin Credo che siano L'idiozia più grossa Che si possa Grazie Volevo dirlo Ma Non ti venivano le parole Sì Cioè Io No Il Il dollaro Le valute Fiat Che hanno dietro No Delle grosse Istituzioni E dei sistemi Enormi Di capitali Di interessi E robe del genere Sono come Un animale gigante Un bisonte Ecco Come fossero un bisonte Le criptovalute Sono come Delle farfalline Allora Il bisonte Se ne sta tranquillo E ha poche cose La farfallina Oscilla Col vento Va su Va giù Eccetera Lo sappiamo È libera È flutto Ad amati Eccetera La stable coin È come una farfallina Che a rodeo Decide di stare Aggrappata Alla collottola Del bisonte Finché il bisonte Sta tranquillo Tutto bene Ma appena il bisonte C'è un po' di pruritto Che fa così La farfallina Se ne finisce A gambe all'aria Soprattutto se il bisonte Poi si gratta Sai Dice E finisce E finisce Sempre così Va bene Parlatevi del Social network Semi automatico Che questo è Forse più il titolo Del succo Del discorso L'avete letto L'articolo su Diverge Letto Sì Discrive Una serie di funzioni Che Linkedin Soprattutto Ma in realtà È una cosa Che può tranquillamente Spandersi Ad altri Social network Sta pensando Di introdurre Credo Non abbia ancora Introdotto Introdotto È giusto Introdotto Era giusto Introdotto Introdotto Allora In realtà Settimana scorsa È iniziato Con I rompighiaccio I conversation Starter Che sono Gestiti Generati Dall'intelligenza Artificiale Per provocare La discussione Tra Tra gli utenti Che appunto Diventano un misto Tra Lavoro editoriale Di un team Di linkedin Con Il Lavoro Poi Dell'intelligenza Artificiale Perché altrimenti Penso Per quanto Possono essere Tanti Nel team Editoriale Di troveressi Solo post Tutti uguali L'idea Appunto È di Di creare Appunto L'articolo Di Devergio Parla Di Un Social Network Semi Automatico Come Macchina Dell'engagement Che è un po' Quello di cui avevamo Parlato Digitale Oramai Un bel po' Di settimane Fa Dove Quasi C'hai Un social Network Dove Innanzitutto I bot Se la cantano Se la cantano E se la suonano Però Soprattutto Personalizzato Su quello Che può Essere Il tono Di un Determinato Utente Senza Che Questo Utente Necessariamente Debba scrivere I suoi Contenuti Fino ad oggi Abbiamo vissuto Un'era In cui I social Network Hanno funzionato Benissimo Perché ovviamente Il loro obiettivo Era L'engagement Connecting People E quindi Sceglievano I post Da fare Circolare Di più In base Non tanto All'utilità Sociale Ma a quello Che faceva Più Incazzare Fomentare Eccetera L'abbiamo Vissuto Scegliendoli Però Tra le cose Scritte Dagli esseri Umani Qui si passa Al livello Successivo Non si scelgono Neanche più Tra quelle Scelte Tra quelle Scritte Dagli esseri Umani No Qui le scrive Direttamente L'algoritmo Cosa potrebbe Mai andare Storto Poi ci metti Soltanto I bot Che leggono Leggono Anche Questi contenuti Intanto L'engagement Si rispondono Più uno Esatto Si rispondono Più uno E hai fatto E' come la guerra E' come con la guerra Con soltanto I robot Di cui parlavo Qualche settimana fa Mi ricordo Anni fa Prima che iniziassimo A parlare Di tutta questa cosa Delle intelligenze artificiali Che c'erano Comunque I siti di dating Le app di dating Che di cui erano popolate Solamente da maschi E tutte le donne Alla fine Erano più o meno Finte Che venivano Gestite Pensa Questo sarebbe Perfetto Cioè E c'era Assolutamente E certamente Ancora più verosimili Che questi Più vecchi profili Uno dei problemi Più grossi Di una startup Che si dedica A social network Ma non solo È il seeding Cioè Quando tu inviti I primi utenti dentro Devono trovare Qualche cosa di interessante Se quello che cercano Sulla tua app Quel qualcosa di interessante Sono altri esseri umani Ma non ci sono ancora Perché loro sono i primi Come lo fa il seeding E te li inventi Se c'è a disposizione Un'intelligenza artificiale Cosa può esserci di meglio È esattamente Come era stato fatto Con le app di dating Che infilavano Le foto delle modelle E ci mettevano Dei nomi a caso Vabbè Credo che ne vedremo Ancora delle belle Ci sarà molto Da divertirsi Sempre a proposito Di social Iniziano a girare Articoli Sul Sulla caduta Sul declino Si riferiscono Soprattutto A Twitter Alle vicende Di Twitter Nell'epoca Peri e l'ommaschiana Subito prima Durante E ipotesi Sul dopo Però no Si Come Si inizia a vedere Un po' questo clima Di Di Da scena Del pianeta Delle scimmie Con la testa Della statua Della libertà Sulla spiaggia Ne sono usciti Tanti questa settimana E mi dà Un po' l'idea Che vogliono Essere un Te l'avevo detto Dichiarato Cioè Il classico articolo Che prospetta Una caduta Poi quando succederà Eh L'avevo detto Quindi a questo punto In realtà Si Riassumono Un po' Altri casi Di cadute Storiche In particolare Molti citano Tumblr O siti simili Che da Grandi momenti Di gloria Di Fama Anche all'interno Della Della Interasfera Di colpo Cambi di proprietà Scelte Non felicissime Magari anche Annullate Molto velocemente Ma che hanno creato Quella Disaffezione E Hanno raggiunto Quella che qua Viene definita La La linea di differenza Termica Il termoclino Il termoclino Il termoclino Ovvero dove l'acqua fredda Incontra l'acqua calda E di colpo In un lago In un mare Eccetera Si passa Da un cambio Di temperatura Graduale A un cambio veloce Cioè il momento In cui Oltre passata Quella linea Difficilmente Si può tornare indietro Certo E Sì infatti È un Secondo me è un concetto Poi che ovviamente Non vale soltanto Per i social network Ma probabilmente Per qualsiasi Interazione Tra una Tra le persone E i brand Quindi immaginatevi Voi avete Un negozio preferito Dove andate Dove andate sempre Vi trovate Vi trovate Vi trovate Vi trovate bene Poi una volta Magari succede questo Una volta succede quello Poi la terza volta Succede un'altra cosa Insomma Da un giorno all'altro Dite vabbè Adesso Adesso è troppo E non tornerò più E non tornerò più indietro Perché Non ha Non ha più senso E quindi Il negozio Può fare tutto quello Che è umanamente possibile Quando tu hai deciso Darvi sconti Farvi regali Quando hai trovato L'alternativa È difficile Che torni indietro Esatto Non tornate Non tornate più indietro Beh sì Effettivamente Anche sui social Corso stesso Stesso di Tumblr Secondo me È molto interessante Perché Tanta di quella Che oggi è la cultura Di cui si discute Su Twitter Anche tutto quello Che Di cui Di cui si parla Dal punto di vista Anche Corretto Con tutti i filtri Perché Il Tumblr Allora La prendo larga Sto ascoltando Il podcast Di The Free Press Che sarebbe il sito Di Barry Wise Su J.K. Rowling Sono fermo però Alla puntata Alla puntata 3 Forse è andato avanti Di un paio di puntate Comunque c'è La puntata 3 Se non ricordo male È veramente bella Perché fa La storia Praticamente Di Tumblr Che vuol dire La storia dell'internet Dei primi anni Dei primi anni 2000 E Di come era Di qual era La sottocultura E di quelli che sono Di quelli che sono stati Poi gli impatti Della sottocultura Di Tumblr Dei ragazzi Degli adolescenti Che c'erano su Tumblr Nei primi anni 2000 Che adesso sono diventati grandi Si sono spostati Poi su Twitter Perché appunto Una parte della sottocultura Era della pornografia E la pornografia A un certo punto Quando Tumblr È stata acquistata Da Yahoo È stata sbattuta È stata sbattuta fuori Sì E quindi oggi Twitter È il figlio del Tumblr Che è decaduto Quale sarà il figlio di Twitter Dopo? Non lo sappiamo Erano delle community Che giravano Attorno Alla pornografia Ma non pensiamo Alla pornografia Come film porno Pensiamo a Contenuti di immagini Un pochino Tra l'erotico E il coso Attorno alla quale Gravitavano Queste culture Un po' di frangia Di Appunto Di tematiche Di gender fluid O robe del genere C'è stato C'è stato Certamente un seeding Ma il paragone Più vivo Secondo me Che è stato fatto E la messa a fuoco Sulla causa Di questi declini E il caso di Tumblr È proprio paradigmatico È quando un Quando arriva un nuovo proprietario E il nuovo proprietario Non capisce Gli abitanti Di quel social network Ed è proprio Il succo Del discorso E per molti È quello Che sta Facendo Elon Musk Che ovviamente È il convitato Di pietra In questi discorsi Qui Su Twitter Ora Di nuovo Bisogna un attimino Capire i punti di vista Perché La community Che S'è vista Non capita Da Elon Musk E quindi È scappata Da Twitter È Una community Tech oriented No Quella che utilizzava I client di terze parti Quella che Erano amici O comunque In contatto O comunque Seguivano su internet I vari dipendenti Di Twitter Che sono stati in massa Cacciati via E quindi Non c'è dubbio Che Nella comunità Tech Ci si è visti Non capiti Da Elon Musk E si è scappati Verso Fe diverso E verso alternative Bisogna capire Quanto questa comunità Tech Sia Predominante In termini numerici Sull'utenza attiva Di Twitter E quanto L'abbandono di questa Possa veramente Mettere in pericolo Avvicinare al termoclino Di cui diceva Francesco Tutta l'azienda L'impressione È che l'idea Di Musk Sia al contrario Cioè a me Non me ne frega Della comunità tech Anzi Con i suoi atteggiamenti Molto Anti Determinate Tematiche Anti Walkie Anti Progressisti Anti Sinistra Democratica Anti Sembra quasi Voler Anzi Sembra Vuole decisamente Stuzzicare Quel tipo di comunità Quasi a volerla Allontanare Probabilmente Immagino Pensando di non Averne bisogno E che a fare Grande Twitter Possa essere Un altro tipo Di comunità Quella dei giornalisti Quella del Che se vogliamo Giornalisti Opinionisti Leader Politici Non hanno avuto Questa Reazione Di antipatia Nei confronti di Elon Musk E della Twitter Post Elon Musk Per cui È ancora possibile Che ci sia Un futuro Di Twitter Roseo Alternativo A Lo vedremo Lo vedremo Strada facendo La mia idea È che Appunto Elon Musk Sia un po' Kamikaze Perché Twitter Ha bisogno Di un atteggiamento Da kamikaze E lo faccia Secondo le sue Personali Inclinazioni Con cui si può Essere più o meno D'accordo Ma che Ma che ci sia Una strategia Ben precisa Poi Che Questo Porti a del buono Del cattivo Lo vediamo Probabilmente A del buono Non per Twitter Ma per il resto Del mondo Uno degli esempi Di come Twitter La Twitter Di Elon Musk Voglia quasi Rendersi antipatica A una certo Tipo di comunità Sono uscite Le Cifre Degli abbonamenti Per avere Accesso All'API Di Twitter Quelle che usavano I client Di terze parti Che sono stati Buttati fuori A calci E fondamentalmente Per un account Come servirebbe A una tweet bot A una roba del genere 42 mila dollari Al mese Che Leggevo I commenti Di chi Aveva Di tweet bot Di Twitterific Eccetera Dice Non è Lontanamente Neanche Lontanamente Sostenibile Da Uno sviluppatore Di app Di app Del genere Ma non solo Questi stessi prezzi Sono anche per permettere Di leggere Quantitativi di dati Come Utili ad esempio Per l'università E i centri di ricerca E questo mezzo milione Di fatto La cifra annuale Se moltiplicate 42 mila per Porta comunque A uno Zero Tre per cento Dei messaggi leggibili Che sono pochissimi Per poter fare Big data analysis Quindi c'è anche Proprio una volontà Di Di escludere Un certo tipo Sì Anche perché Poi Queste ricerche Del mondo accademico Negli ultimi anni Sono quelle Di cui parliamo Quando diciamo Qui social network X Peggiora O un certo tipo Di algoritmo Peggiora l'umore Dei giovani adolescenti Stiamo parlando Di quel tipo Di Di quel tipo Di scopi Di utilizzi lì Ci sono anche Quelli a scopo politico Anche a quelli A scopo A scopo PR Però ci sono anche Quelli Oppure quelli Per tracciare i preti Come abbiamo visto prima Quelli per tracciare Per tracciare i preti Vedi Costerà molto di più Tracciarli adesso Comunque Il risultato Di tutto questo Può essere Non così Pessimo Potremmo essere Un giorno grati A Elon Musk Per aver dato Uno scossone E avere in qualche modo Portato Tutta O quantomeno Una parte Della comunità Su Twitter Quella che magari A noi ce ne frega di più Su istanze diverse Su istanze di fe diverso E anche L'attenzione Di aziende Iniziamo a vedere L'attenzione Di Veramente Di big tech Parliamo di Parliamo di Meta Che ha annunciato Lo sviluppo Di Qualche cosa Di social Qualcosa di Incredibilmente Innovativo Come Nella storia Di queste aziende Che acquisiscono O copiano Beh però Michele Qui non puoi Ne acquisire Ne copiare Se veramente Vuoi entrare Sul metaverso Entri sul metaverso Non lo so Se c'è un modo Di fare In qualche modo Di fare Come dire Barging Di adottare Il metaverso In maniera Tossica Cioè in qualche modo No Di dire Va bene Perdonami franco Però Se tu sapessi Qual è Saresti il CEO Di facebook Sì è vero Certamente 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 Però Non è solo Non è solo Non è solo Meta Ci sono anche Entità Ben più Interessanti E simpatiche Dal punto di vista Delle comunità Di smanettoni Tipo automatic No E' la notizia Di questi giorni Che è automatic Quindi Parliamo Di wordpress Wordpress E' uno Dei prodotti Che esce Dal mondo Dell'open source Più amico E più amato Dalla comunità Tech E da chi Ha Care Un certo tipo Di Di istanze Di libertà Sulla rete Mullenweg Mullenweg Si chiama Si Ha detto Che Ha dichiarato Che stanno studiando Un'integrazione Activity Pub Quindi Fediverso Per La piattaforma Wordpress Sarebbe una cosa Colossale Cioè Immaginatevi Tutto quello Che è Wordpress Magari con Un semplice Plugin Si fa Diventare Immediatamente Una istanza Nativa Che possa Dialogare Col Metaverso E quindi Con Mastodon Con Pleroma In maniera Assolutamente Automatica Automatica Giusto per Wordpress Si dice Che sia usato Intorno al 40% Dei siti internet Quindi vi fa capire Quanto Questa cosa Possa essere importante Automatica è anche La proprietaria Di Pocket Casts Da qualche tempo Pocket Casts è uno Dei client Più Multi Piattaforma E più Utilizzati Al mondo E Non è uscita Tanto la notizia Ma Ne ho sentito Parlare Di questa Call Che c'è stata A cui A cui ha partecipato Anche Mullenweg Dove hanno Dichiarato L'adozione L'interessamento Era già Conosciuto Da qualche Mese Ma L'adozione Di parte Del namespace Del podcasting 2.0 Anche qui Sono delle cose Interessanti Sono dei movimenti Molto molto Interessanti Di Spostamento E di Abbracciare Delle logiche Di cultura Open Come risposta No Alla fine Dei conti Pocket Cast Oggi si trova Di fronte Dei colossi Come Spotify Come Apple Che cercano Di In qualche modo Tirarla fuori Da Metterla in minoranza Su Pocket Cast Non puoi certamente Accedere Alle Alle esclusive Di Spotify O alle esclusive Di Apple E Pocket Cast Non è Il piccolo Player Pocket Cast È un grande Player E oggi Con dietro Un Tra virgolette Editore Gigantesco E il fatto Che spinga Su queste novità Come quella Del podcasting 2.0 Che servono Proprio a Rendere Il podcasting Open Più competitivo E più innovativo E in grado Appunto Di resistere Alle spinte Del podcasting Chiuso È un altro Bel Interessamento Vediamo Delle belle cose Ecco Vediamo Dei bei Movimenti Sono scatenati Dai comportamenti Come quello Di Elon Musk Che abbiamo visto Negli ultimi mesi Ma può darsi Che avremo Da ringraziarli Tra Ecco Tra qualche tempo Ti chiedo Un parere Al volo Perché In questo momento C'è chi come te Giustamente Festeggia L'avvento Dei grandi player Perché possono portare Effettivamente Tanto dinamicità A quello che è Un protocollo Che sappiamo Essere Veramente Aperto Quindi in teoria Resistente Dall'altra parte Resiliente Francesco Resiliente Parola C'è chi ha detto C'è chi ha detto Stanno arrivando I soldi Attenzione E quindi Come la vediamo Perché da questo punto di vista È vero che Il programmatore Di Mastodon Non prende una lira Da questo Però arrivano I grandi investimenti Bene Apparentemente Ma non è che i soldi Ci fanno schifo Quando andiamo a mangiare La pizza Usiamo i soldi Quando andiamo a comprare Le pere Usiamo i soldi Cioè open Non vuol dire Senza soldi Certo Open non vuol dire Siamo francescani E facciamo voto di povertà A volte Agli albori O chi coltiva Determinate Per passione Ci sta tanto Chi fa digitali Ha certamente Abbracciato un voto Di povertà A tempo indeterminato Ma su quello Sono discorsi diversi Automatic Certamente E i suoi dipendenti Uno stipendio Lo ricevono E meno male Che lo ricevono I grossi capitali Possono ovviamente Avere un interesse Poi a estrarre Della convenienza Bene Sarà un ottimo Banco di prova Perché Questi guadagni Da qualche parte Dovranno tirarli fuori Per il momento Il loro modello Di tirarli fuori È stato quello Del tracciamento E della pubblicità Vedremo come Le caratteristiche Del fediverso Saranno resistenti A questo tipo di Io me lo immagino Che se Il tuo fediverso La tua istanza A cui sei iscritto Inizia a ricevere Per federazione Sulla timeline federata Troppe pubblicità Che sono pubblicate Magari Dall'istanza Di Facebook Di Meta O di chi per esso E a un certo punto La tua istanza dice Sapete cosa? Da questo momento Io ritiro La federazione Con Meta E funzionerà? Non funzionerà? Solo camminando Solo provando Ci lo scopriremo Non possiamo pensare Che Cioè Se i social network Possono essere Non tossici Solo nel momento In cui Siamo quattro gatti Cioè Appena dopo La creazione L'adozione Dopo la prima migrazione Basta Allora siamo condannati A migrare Di social network In social network Per l'eternità Abbracciare Quello nuovo Un po' figo Quando ci mettiamo Tutti noi Geek D'accordo Che la cosa nuova Figa è quella lì E poi siamo condannati Prima o poi Arriva la massa Allora arrivano i soldi Arrivano le storture E dobbiamo migrare di nuovo E poi migreremo di nuovo E migreremo di nuovo E migreremo di nuovo Ma può darsi Che a un certo punto Potrebbe essere Fidiverso oggi Potrebbe essere Qualcos'altro domani Arriveremo a un certo punto A costruire una tecnologia Che ci permette Di convivere Anche con chi vuole fare i soldi Da chi vuole estrarre Del valore Da chi magari ha Degli atteggiamenti Tossici e negativi Ma con una tecnologia Che ci permette Di filtrarli Senza per forza Dover passare A un ambiente nuovo No? Cavolo Esatto Un progresso La svolta Non è tanto Secondo me Il discorso Del filtraggio Del filtraggio O meno Quanto degli Switching Cost Ossia Io prendo Oggi non posso Prendere armi A bagagli E spostare Il mio account Facebook Da un'altra parte Invece Il vantaggio Del fediverso Uno dei vantaggi Del fediverso È esattamente Quello Nel momento in cui Tu hai degli Switching Cost Molto più bassi Quindi Delle barriere Molto più bassi A passare Da uno all'altro Questo vuol dire Che si alimenta In teoria Sulla carta Si dovrebbe aumentare Un circolo virtuoso Anche di competizione Delle aziende stesse Numero uno E due Quello di andare A frammentare Quindi Se I social network Valgono Quel trilione Di dollari All'anno E al fediverso Vale anche Quel trilione Di dollari Se varrà mai Quel trilione Di dollari All'anno La differenza Non è Quel trilione Di dollari Ma come Poi È ripartito Come viene distribuito Dei vari Attori Anche perché Grosse alternative Al capitalismo Non mi sembra Ha ragione Michele Ha ragione Ancora prima Della Della Defederazione E della cosa La possibilità Di migrare Cioè Immaginatevi oggi Di essere su Twitter O su Facebook E di potervi Spostare In un altro Posto Che vi permette Di continuare A parlare A interagire Con Il vostro Grafo sociale Tutti gli amici A cui avete dato L'amicizia su Twitter O su Facebook Senza subire Le angherie Di Zuckerberg O di Elon Musk E questo Si propone Di essere Di fatto Il fediverso E Bene Vedremo Vedremo Però Insomma Il movimento È sempre meglio Della stasi Un minimo Di distruzione È sempre necessario Della stasi Sicuramente Della stasi Della stasi Della stasi Va bene Qualche minuto Qualche minuto Me lo concedete Per ringraziare Il nostro sponsor Active Power Rivenditore Ufficiale Italiano Di Active Campaign Che è una piattaforma Di email marketing Automation Dovete gestire Campagne di marketing E comunicazione online Ci sono ben pochi Sistemi che possono Rivaliggiare Con Active Campaign Qualsiasi siano Le vostre esigenze Di marketing online Active Campaign Vi mette davanti Un editor di mail avanzato Che con la pubblicità Del drag and drop Vi permette di realizzare Campagne moderne Ed eleganti Dopodiché Automatizzate tutto Inviate un email All'iscrizione Al vostro sito internet Inviate un email Nella data del compleanno Del cliente Una newsletter A tutti i contatti E poi potete collegare Il tutto ad esempio Con la piattaforma Di advertising Di facebook Perché no Uno a caso Questi sono esempi semplici Ma la potenza della piattaforma È la sua automazione spinta Che vi permette Di creare dei funnel Anche molto complessi Inviare email In base alle pagine Visitate dagli utenti Oppure inviare email In base alle azioni Fatte o non fatte Dagli utenti E poi potete analizzare Tutti i risultati Generando report Esaustivi Di ogni tipo Grazie ad Active Power La piattaforma È al 100% Localizzata in italiano E se avete Bisogno di aiuto Anche il supporto tecnico È disponibile Nella nostra lingua Via ticket Chat o telefono Niente call center Che smaltiscono Le chiamate in giro Per il mondo E interagire con Active Power Permette poi Di avere tutti i costi A fatturazione europea Ma Active Power È molto più Che mail marketing È possibile Connettere Qualsiasi servizio Ad Active Campaign Che diventa così L'archivio Che contiene Tutte le informazioni Utili all'azienda Per comunicare Con i propri clienti A prescindere Dal mezzo Si può ad esempio Collegare Whatsapp E inviare Il promemoria Di un appuntamento Al cliente Oppure Telegram SMS Slack Zendesk Si possono integrare I fogli di Google E di Excel Molte di queste integrazioni Poi sono gratuite E non necessitano Di alcuna programmazione Se poi invece Uno è in grado Di programmare O in azienda Ha dei programmatori Che sono in grado Di utilizzare Le varie API Allora può connettere Potenzialmente Qualsiasi cosa Un altro elemento Di cui non vi ho mai parlato ActiveCampaign Integra un sistema CRM Per la gestione Delle trattative commerciali Utile ad esempio Per il libero professionista Che di solito Si perde Tra le mille richieste Dei clienti E qui invece Può gestire tutto Tramite la piattaforma Anche con l'app Dedicata per smartphone Con i vari task Gli avvisi Di promemoria E se si hanno Diversi agenti O venditori Possiamo dare A ognuno di loro Un accesso In modo che ognuno Segua le proprie trattative Mentre il responsabile Può accedere A un pannello Di statistiche avanzate Dove vede I tassi di conversione Degli agenti Le task non finite O magari Identifica problematiche Nei vari iter Delle trattative Insomma ActivePower È molto di più Di un sistema Di gestione marketing È un vero E proprio metodo Che vi permette E vi insegna Le migliori strategie Di marketing Per generare Clienti Fidelizzati Vai su ActivePower.com E scopri Un modo migliore Per fare marketing Online Grazie a ActivePower Per aver sponsorizzato Anche questa puntata Di Digitalia Cosa c'è nel capitolo Nel capitolo Lasciamolo lavorare Michele Uh Di chi si parlerà? Insomma Credo che sia Il Lasciamolo lavorare Credo che sia stato Un tuo Come dire Un lazzo Nei confronti Del sottoscritto Quando si mette La casacca Dell'avvocato Del diavolo E cerca di Difendere Elon Musk Ma non difendere L'hai chiamato tu diavolo Sì L'ho messo Quando ho postato Il thread In cui Elon Musk Prima inizia A discutere E poi Credo facendo poi Una bella figura Con quello che Poi si è scoperto Essere un ex Poi non più ex Dipendente Di Twitter Di cui io Provo a citare Il nome Perché è giusto Però credo che sia Anche lui di origine Svedese Questa è un po' La puntata Della Svezia Thor Quindi figlio di Odino Ci siamo Thor Leifson Quindi Thor figlio di Leif Non lo so Comunque Questo dipendente Di Twitter Che aveva fondato Una Qualcuno dice Anche più Aziende Che poi sono state Acquistate Da Twitter Nel corso Nel corso Degli anni Pare che Rumors Dicono Che questa persona Fosse nella lista Del Do not fire Perché Aveva Un accordo Contrattuale Talmente Oneroso Nei confronti Di Twitter Nel caso in cui Fosse lasciato a casa Che era meglio Non lasciarlo a casa C'è un motivo Michele C'è un motivo Intanto Direi dal Dal nome Più Islandese Anzi Islandese Se tu avessi È la persona Dell'anno Di quest'anno Islandese Se tu avessi Visto la serie Che ti ho consigliato Qualche settimana fa Cos'era Trapped La serie islandese In lingua originale Avresti riconosciuto Il suono Di questo Di questi nomi Che sono una roba Impronunciabile Ma Aveva un contratto Di quel tipo lì Perché non era Un dipendente Qualsiasi Era Uno dei fondatori Di una Startup Che è stata acquisita Da Twitter E quando le startup Vengono acquisite Da aziende Tech Grosse Di solito Nelle Nelle Trattative Si inserisce L'assunzione Del fondatore Con Un certo tipo Di contratti Che controbilanci Quelli che sono Di solito Gli accordi Di non concorrenza Cioè il concetto è Tu stai da noi Ti ricopriamo Di soldi Per comprare La tua azienda E continueremo A ricoprirti Di soldi E tu in cambio Ci prometti Che non ci lascerai mai E se anche ci lascerai Non rifarai La stessa cosa Che abbiamo comprato Da te In maniera concorrenziale Nei nostri confronti Questo è il motivo E se ti mandiamo via Ti copriamo ulteriormente Di soldi E tu continui però A non A competere Certo Questo è il motivo Della lista Do not fire Di queste aziende E Elon Musk Ha pensato bene Di non considerare Neanche Di rispondere Ma non solo Perché è stato Cioè È stato beccato Da questa provocazione Nel senso che Questo Questo Halli Come si chiama In nome proprio Ha iniziato a scrivere Dicendo Ma un po' Che cerco i char Non ho ben capito Perché il mio portate Si è disconnesso Non riesco più Alloggarmi Da nessuna parte Non è che per caso Sono stato licenziato E da lì Quindi Intanto Non si sa Quanto veramente L'abbia provocato C'è chi dice Che sia stato Tutto studiato Da parte sua Gli ha iniziato A chiedere Non Musk Cos'è che fai Dimmi qualcosa Per cui tu Lui dice Vi ho fatto risparmiare Mezzo milione di dollari L'anno Grazie all'inizianza Di un software Quale software Figma Esatto E' stato poi interessante Che poi lui Quando Musk Gli ha chiesto Ok cosa hai fatto Lui ha risposto Guarda non lo posso dire Perché mi avete Fatto firmare Un contratto In cui non potevo dire Nel dettaglio Qual era il mio lavoro Al che Musk Gli ha risposto qualcosa Il tipo Vabbè Non ti preoccupare Sono io il capo Dici quello che vuoi E al che lui Ha tirato fuori Un po' I dettagli Del lavoro Di supporto Credo a team Di design Che faceva Da quello che ho sentito In giro Era un È un Bravissimo Designer Designer Non solo in termini Di disegnatore Ma proprio di progettista Di interfacce E cose Pluripremiato Fra l'altro E vabbè Dopodiché L'ha accusato Di fare Dalla gag Di Figma Che Musk Ha interpretato Come fosse Una presa in giro C'è un famoso Gioco di parole Su internet Che si chiama Ligma Che non tradurremo Qua Ma Insomma Gli ha risposto Con una facina sorridente Di fatto Poi dicendogli Esplicitamente Che sarebbe stato Licenziato È stata vista Un po' Dalla Twitter Sfera Come Ah Hai preso In giro Uno che volevi Licenziare E quindi Già questo Non ha giocato Molto bene Beh Anche perché A un certo punto Lui gli ha proprio Detto Cioè Ha preso Quando lui ha descritto Per sommi capi Quello che fosse Il suo lavoro Lui gli ha detto Qualcosa Ok ma parliamo Del vero lavoro Che facevi Mettendo quasi in dubbio Che lui facesse Un lavoro Vero e proprio Anche perché poi Stiamo parlando Di una persona Che ha un qualche tipo Di distrofia Di distrofia Muscolare È una disabilità Importante Esatto E Elon Musk Ha pensato bene Senza approfondire La cosa Di In qualche modo Prenderlo in giro Di giustificare Il licenziamento Con il fatto Che non fosse In grado Di lavorare Che non facesse In grado L'hai detto Ma Tu nella tua cartella C'è scritto Che non puoi fare Lavori Di un certo tipo Alla tastiera Per più di due ore Di fila Ma è due ore Che stai Tweetando con me E rispondendomi E robe del genere Al che gli ha spiegato Che un certo tipo Di attività Sullo smartphone Riesce a farlo Ha una scrivania Un po' meno Perché le può fare Con una sola mano Esatto Per una serie di problemi Di questa distrofia Di questa malattia Dei muscoli Che lo rende Insomma Non esce benissimo Di qui Quindi Musk ha Licenziato ridendo E prendendo in giro Un disabile Sì E questo qua Lui ha anche detto Non puoi essere Licenziato Se non facevi Un vero lavoro Esatto E in più Questo qua Nel frattempo Essendo che è stato Licenziato Che non poteva essere In più Se è anche vinto Quindi Bellissimo Momenti di grande storia Su internet Ci vuole anche questo Ci vuole anche questo Diciamo che Indifendibile Indifendibile Per tanti Questo Ali È un po' Un eroe moderno Dai Possiamo dirlo Ma è È l'altro Che è un anti-eroe Che probabilmente Gioca anche a fare L'anti-eroe Perché si sente Al di sopra Di qualsiasi Però Oh ragazzi Gli esseri umani Spesso sono così Cioè c'è una grossa Personale di esseri umani Che quando hanno Il potere Si sentono In diritto Ma anche In dovere Di dimostrarsi Stronzi Proprio nel senso Forse Forse un po' Un po' Troppo Sia di soldi Che di ego Ecco Il Sì Certamente Ebbè ma È sempre il discorso Della fascinazione Dell'uomo forte No È sempre la parabola Della fascinazione Dell'uomo forte L'uomo forte Nasce come quello Che risolve i problemi Delle situazioni statiche Che non Che non progrediscono E catalizza Tutte le decisioni Su di sé E riesce a muovere A fare qualcosa Che gli altri non fanno E poi va fuori di zucca Diventa paranoico E vi ricorda qualcosa Gli esseri umani Hanno tutti gli stessi difetti Da Da millenni È un bug di sistema Se andate a studiare La storia dei faraoni egizi Trovate le stesse cose Se andate Cioè Alla fine Se studiate la storia Di Digitalia Poi non ne parliamo Non ne parliamo Ci potreste scrivere Delle 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 tesi di laurea Da Giulio Cesare A Digitalia A Elon Musk Proprio È un filo conduttore unico Cioè Non parliamo Dei dittatori Del ventesimo secolo Assolutamente Allora Invece di dire Delle cacchiate Qualche novità In materia Intelligenza artificiale Large language Oggi poco Stiamo già entrando Nell'inverno Beh iniziamo Cerchiamo di dimagrirle Un po' Ogni tanto Iniziamo un pochino Anche a lasciarle Dopo un'oretta Di trasmissione In modo che non diventino Preponderanti Perché è Digitalia Che decide Quando è l'inverno Delle AI Assolutamente Non è il contrario Assolutamente Lo facciamo noi L'inverno Decidiamo noi Quando si apre L'ombrello Vabbè È tornata in onda Nothing Forever Nothing Forever Dopo che aveva Cosa aveva fatto Aveva insultato I transessuali Aveva fatto Qualche cosa Sì Aveva fatto Una battuta Transfobica Sui transessuali Su Twitch L'intelligenza artificiale Che era stata allenata Sugli show Di Seinfeld Che adesso Continua ad andare 24 ore su 24 Su Twitch Quindi sia I testi Che La grafica Che è molto ispirata Ai giochi Ai giochi Dei 3D Degli anni Degli anni 90 Che Ovviamente poi Anche le voci Perché poi È come se fosse Un qualche tipo Di sitcom Era stata Bannata da Twitch Era a questo punto Credo Un mesetto fa Per appunto Una battuta Sui trans Poi Gli sviluppatori Sono andati Anche un po' A guardare Un po' Cosa era successo E pare Che si erano Io ho scoperto Da questo articolo Il mondo Dei moderatori Di intelligenza artificiale Nel senso Che questi testi Venivano passati Per un altro Algoritmo Di Open AI Che andava A escludere Quelle che dovevano Essere Delle battute Troppo pesanti Troppo irriferenti Tipo questa Sui transessuali Pare che ci fosse stato Un cambio di versione Di questo algoritmo Di moderazione E quindi Questa battuta Avesse passato Il filtro Il filtro Della moderazione Sono stati bannati Per un mesetto E adesso Appunto Sono tornati Quindi L'IA non è stata Uccisa Non è stata Sterminata Per aver fatto Una battuta Su un transessuale Gli hanno lasciato Di vivere L'hanno moderata Un po' di più Gli hanno aizzato Un po' di più I cani da guardia Per vedere Se in questa maniera Si comporta Un po' meglio Fine alla prossima uscita Infelice che avrà Ma comunque Cioè l'articolo Diceva Ci sono 3500 persone Che guardano Io mi sono collegato Ora c'è quasi Un migliaio di utenti Cioè c'è sempre Gente che guarda Ed è questa La cosa che mi sconvolge Ed è veramente terribile Poi non so Se perché Non siamo madrelingua O cosa Ma è veramente Pesante Da seguire Beh ma Quante Quanti sistemi Di intelligenza artificiale SSM Sono uscite In questi ultimi 4-5 mesi Sono loro Che stanno guardando Sono loro Che stanno guardando Sempre Non pensate mica Che siano degli esseri umani Che guardano Quella roba Chat GPT1 2-3-4 E così via Chat GPT4 Che sta cercando Nuove fonti Da cui trainare Il suo LLM Chat GPT4 Che dovrebbe Anzi GPT4 Senza chat Dovrebbe uscire Nelle prossime settimane E dice Microsoft Germania Non so perché Microsoft Germania Ma dice Che sarà Multimodale Bene Siamo molto felici Di questo Lo dice Il CTO di Microsoft Germania Semplicemente Perché è andato A fare una presentazione In quella situazione Ha detto Sì sì è pronto Manca 1-2 settimane Per l'uscita Tolto questo Per il resto Come dire Aspettiamo Con ansia Ma non troppa Di vedere Che succede Ansia Da sesta Settima Colonna Del nostro Trello Allora Multimodale Vuol dire Che puoi fargli Fare tante cose Cioè Non è più solo Una interazione Di testo Ma puoi dirgli Magari Mentre stai parlando Di una cosa Gli dici Va bene Scrivimi una canzone Su questo argomento Oppure Fammi un video Fammi uno schemino Si si parla di video I video I video è una delle novità Più importanti Cioè già adesso Comunque GPT Può scrivere Può fare codice Può tradurre Può fare Immagini E sono tutte applicazioni Che poi abbiamo visto In chat GPT Ma anche in tutte le altre Sue declinazioni GPT4 Avrà anche la possibilità Di fare video Nonché Una serie di altre cose E Da questo punto di vista Poi Vabbè Chiaramente Nella conferenza stampa Hanno raccontato Di possibili utilizzi Come miglioramenti Di call center E' sempre lì che vanno Tutti i demo Vanno a migliorare I call center Noi non ne sentiamo Non sentiamo proprio La necessità di call center Secondo me Però va bene Andiamo avanti Su questa Ma c'è un motivo C'è un motivo I call center Il supporto Il supporto in genere I call center In realtà sono I call center In realtà costano poco Cioè sono già Una soluzione Per risparmiare Su quella Che è una Delle attività Più costose Di chi Vende Un prodotto O un servizio A livello globale Il costo Uno dei costi Più grossi E' proprio Quello del supporto Degli utenti Del tuo prodotto E I call center Come li conosciamo oggi Sono già un modo Per renderlo Meno costoso Ovviamente Degradando il servizio Quando No Quando la Vodafone Ti risponde E la voce Ti dice Ti risponde Un utente Dalla Turchia Però non ti preoccupare Perché se protesti Ti passa un operatore Italiano Cosa vuol dire? Vuol dire che assume Due operatori italiani E 42 In Turchia Perché il costo Del lavoro È più basso E anche la specializzazione La preparazione E ovviamente Anche la capacità Di comprendere Le sfumature Del tuo linguaggio È differente È differente Se ti risponde Un italiano O un turco E qui andiamo Ancora oltre Quindi le prossime Telefonate saranno Ciao sono Sandy E ti rispondo Da OpenAI Se vuoi parlare Con un operatore umano E clicca uno Ciao sono Sandy E ti rispondo Dall'Albania L'idea è quella La prima idea È quella Di fare Summarizing Cioè di fare Text to speech No speech to text Della richiesta Del cliente Di fare Summarization Cioè riassunto Un riassunto Del significato In modo da poi Poter smistare A addetti Del call center E permetterti Di leggere In tempo breve Quella che è la richiesta Dell'utente Questa è l'idea Geniale Che è venuta Che poi In metà delle volte La risposta è Solito rompi balle Esatto E quindi Sottodice Di all'utente Di spegnere E riaccendere Il sistema E la soluzione Poi è sempre Quella C'è qualcuno Che dice però Che potrebbe essere Semplicemente GPT-4 Un bloated Pointless Mass Per cui Un casino Gonfiato E senza Un significato Senza uno scopo L'idea è quella Della Grandezza GPT-3 Aveva 175 miliardi Di parametri GPT-4 A 100 Trilioni Di parametri Per cui Siamo a Tre ordini Di grandezza Sopra Perché da 100 billion A 100 trillion Direi che Adesso Per mille Esattamente Voilà Questo Questo Non vuol dire Dice l'articolo Di The Atlantic Che Questo corrisponda Indefinitamente Ogni volta che si aumenta Il numero dei parametri Dei nodi E degli strati Della rete Neurale A un miglioramento Delle prestazioni A un certo punto Visto che questi parametri Devono essere in qualche modo Educati Tramite il training Fornendogli del materiale Già esistente Quindi del testo O delle voci O della musica O delle Immagini E cose del genere A un certo punto Si esaurisce La quantità Di dati Che gli puoi dare E soprattutto Man mano che si va avanti Devi allargare il filtro E quindi Si rischia di dover dare Dei materiali Che sono sempre Di minore Qualità E quindi Con il risultato Non di migliorare La performance Dell'algoritmo Se l'algoritmo Lo vogliamo chiamare Della macchina Ma addirittura Di peggiorarla E È plausibile questo Sì Allora Questo articolo Fa Come dire Fa un po' Il punto della situazione Di quello Che è la discussione Tra gli scienziati Su Questo Su questo tema Qui Dice che Fondamentalmente Fino ad oggi Si è sempre detto Se c'hai LLM Più grande Vuol dire Che vai Con Con il set Più grande Vuol dire Che vai Vai meglio Quindi Il tuo modello Alla fine Porterà risultati Risultati migliori Però Spiega l'articolo Oggi C'è una parte Della comunità Scientifica Che appunto Fa questo tipo Di ragionamenti Forse Forse non è così Tra l'altro A un certo punto Dice Questo articolo La finestra La finestra di Overton Si sta spostando Tra i ricercatori Di intelligenza Artificiale E la finestra Di Overton E' uno di quei Concetti Che stanno Nel senso Sto trovando Sempre più spesso Che in pratica Dice Che ovviamente Quando si parla Soprattutto Di polarizzazione Delle idee Dice Praticamente Preso da un economista Negli anni 90 Adesso sta uscendo Un po' più di frequente Perché dice Che nel corso Della storia umana Si spostano Le finestre Di quello Che è accettabile Di cui è accettabile Parlare In sedi Mainstream Come può essere Un giornale O anche Su un social network E poi Spiega anche Perché ci sono Spesso Nelle conversazioni Polarizzate Non ci si riesce Neanche a capire Non ci si vuole Neanche parlare Proprio perché Le Overton Window Sono talmente Distanti Che non hanno Punti Che non hanno Punti in comune Come se fosse Un diagramma di Venn Che non ha Intersezione Ecco E qui E applicato appunto Al mondo Dell'intelligenza artificiale E dell'LM Tra i Tra le cose Però Le novità Che sono uscite Questa settimana Noi siamo critici Per l'intelligenza artificiale Per questi sistemi Eccetera Ma questa Che è stata pubblicata Su Science È proprio Una figata totale Diciamo che Tutto quello Che viene pubblicato Su Science Di solito Ha un tasso Di fighezza Però la maggior parte Delle volte Noi comuni mortali Non siamo neanche In grado Di capirle Di apprezzarli In questo caso Sì Anche se c'è il rischio Di comprendere Più di quello Che c'è in realtà Ed è fondamentalmente Un tentativo Abbastanza ben riuscito Da parte Di dei ricercatori Di ricreare Quello che Le immagini Che un soggetto Vede O pensa Prendendo 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 Semplicemente Gli scan Della risonanza Magnetica E mettendoli Come input Di una rete Neurale Che è fondamentalmente Leggere nel pensiero Delle persone Ed è una roba Se guardate le immagini E aspetta Figata pazzesca Ma anche aiuto Sì Certamente Tra il 2B2B3 E il Oh cazzo Esatto Beh ma tutto quello Che è una figata pazzesca Finisce nell' Oh cazzo Con 2C Ovviamente Tutto attaccato E' una E' una legge O CK E' una legge Ineluttabile E' una legge Ineluttabile Anche questa Del genere Dello cazzificazione Esatto Cioè Boh Andate a vedere Le immagini Originali Che vede O che immagina O che pensa Il soggetto Dell'esperimento E l'immagine Ricostruita Dal computer Non aveva mai visto Una roba del genere Allora C'è un piccolo trick Diciamolo subito Se hai iniziato a guardare Tanto non fermatevi Alle immagini in alto Nell'articolo Perché sono chiaramente Le migliori E hanno Un po' di trucco Ce n'è una metà Che probabilmente È la più interessante Ovvero Come In realtà Il sistema Per ora Riesca a vedere Le proporzioni E la prospettiva Fondamentalmente Però Per riuscire ad arrivare Veramente All'immagine disegnata Gli serva Qualcosina in più Cioè il contesto Ovvero Gli stessi risultati Dando La definizione Tipo Sto guardando Un aeroplano Sto guardando Un'anatra Aiutano Il sistema A generare immagini Molto più verosimili Chiaramente È un qualcosa Che abbiamo già visto Anche con Parlavamo Del Del do Del creator Con l'intelligenza artificiale Che generava Gli zucchini Dipende chiaramente Anche che cosa Gli dai Come input Per riuscire Ad azzeccare Certo Però è particolare Un passo in avanti Un passo in avanti Pazzesco Nel senso che tu gli dici Io sto guardando Un gatto E lui non è che Riproduce un gatto Quello lo può fare Anche Mid journey O da lì Del colore Giusto Nella posa giusta Nella posizione Che l'hai pensato tu Nella parte Del riquadro Dove l'hai pensato tu Girato Come l'hai pensato tu Cioè È quella la cosa pazzesca Certo Se non gli dici Che è un gatto Lui ricostruisce Una forma indistinta Che assomiglia molto Al gatto In quella posizione Eccetera Ma non si vede benissimo Che è un gatto Nel momento in cui gli dici Sto pensando a un gatto Lui ricostruisce il gatto Accucciato Col baffo Girato in giù Lo sguardo Rivolto in alto È una roba abbastanza Abbastanza pazzesca Vabbè Ci manca qualcosa Ci stiamo dimenticando qualcosa Ci stiamo dimenticando Della cosa più importante Di Digitalia I produttori esecutivi La linfa vitale di Digitalia La pecunia di Digitalia Va avanti Grazie al sostentamento Alla generosità Dei suoi produttori esecutivi Distribuiamo Digitalia Gratuitamente Analogamente a un software Open shareware Chiamatelo come volete Distribuiamo delle trial gratuite Vi chiediamo in cambio Di Nel momento in cui Non è più un assaggio Ma è una abitudine Ascoltare Digitalia Vi chiediamo un contributo In modo che Voi possiate continuare Ad ascoltarlo E altri dopo di voi Possano conoscere Digitalia Perché noi ricevendone qualcosa Del valore Dal nostro lavoro Decidiamo Ci impegniamo Per continuare a produrlo Il meccanismo funziona Da 14 anni E direi che Sarete anche voi Nuovi da queste parti Abbastanza bravi Da continuare a farlo funzionare Noi contiamo sulla vostra generosità In cambio Lavoriamo per voi Tutti lunedì E in realtà Tutta la settimana Per informarci Leggere Mettere da parte Notizie E soprattutto Anzi E oltre a questo Vi ringraziamo Nel nostro episodio E direttamente Qui in trasmissione Francesco Dai Ci pensi tu Con enorme piacere Iniziamo con I value for value Con Con dei Sats Diciamo Più o meno Ordinere di grandezza 2700 Ci arrivano da Nicola Fort 1500 Da Nicola Gabriele D E 2400 Da Capitan Harlock Devo farlo Ringraziamo poi I nostri Perpetual Executive Producer Quelli che fanno Una donazione Ogni singola puntata Ogni singola settimana In particolare Davide Tinti Con un euro E Nicola Gabriele D Con il suo 2,01 Grazie di cuore Grazie di cuore Arriverà anche Manuel Zavatta Sono sicuro La settimana prossima Ce ne margherà Al recupero Grazie Ringraziamo poi Vincenzo Ingenito Per il suo euro Stefano Cutelle Cutelle 1,10 Carlo Thomas 1,11 Grazie Basta sempre Un centesimo Per andare più avanti Quindi ormai Hanno imparato E stanno Allungando le donazioni Grazie anche Da questo punto di vista Donazioni singole A 3 euro Massimiliano Saggia E gruppo Che ringraziamo Tutto quanto Di donatori di correntina A 3 euro Ogni mese Sono Alessandro Lazzarini Alessio Conforto Alessio Conforto Giuliano Arcinotti Davide Capra Renato Battistin Foto GP di Barabino Marco Raffaele Viero Sempre più misterioso Faremo poi il punto di dove siamo arrivati Anche per riuscire a capire se qualcuno ha già avuto le prime intuizioni Comunque andiamo avanti ringraziando Gianluca S e Massimiliano Casamento per i loro 5 euro Donazioni singole E mentre Andrea Magnoli Ruben Livrieri E Giovanni Priolo Con i loro 5 euro Tutti i mesi Grazie 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 davvero Grazie anche a Carlo Annibale Che ci fa una donazione di 5 euro e 32 E ci scrive Grazie mille per la compagnia E per le cose che mi fate scoprire Tanti cari saluti Dalla città del muretto Grande Carlo Grazie di cuore 8 euro Grazie mille Da parte di Mirko Fornai E 10 euro Tutti i mesi Ci arrivano da Paolo Tegoni Che è il grande produttore E lead executive producer di questa puntata Grazie Grazie Paolo Grazie a tutti i produttori esecutivi Grazie per la vostra generosità Noi umilmente continuiamo a lavorare per voi E ricordiamo a chi non l'avesse ancora fatto I sistemi sono semplici Satispay Paypal Bonifico bancario Bitcoin Pagamento classico on-chain Oppure i meccanismi del podcasting 2.0 Grazie di cuore Ricominciamo il resto della trasmissione E a lavorare per voi Avete visto la nuova interfaccia di Spotify Io non sono utente Spotify È solo È ristretta a alcuni utenti È già pubblica in tutto il mondo No non credo che sia ancora pubblica E Dio Speriamo non lo sarà mai Io sono ancora per poco utente di Spotify E non ce l'ho ancora E non ce l'avrò Quindi temo Esatto Stiamo parlando della tiktokificazione Tiktokizzazione Sì esatto La tiktokizzazione di Spotify Dove vengono messi in evidenza i contenuti In quelle che sono Quell'interfaccia Come dire Chiamalo di scrolling infinito Come ci ha abituato Spotify Sì diciamo che Secondo la regola del design Che l'interfaccia vecchia Era comunque più bella di quella nuova E che vale sempre Per chiunque Appena vedono quella nuova In questo caso È proprio un cambio di paradigma È sempre meno un'app Per ascoltare musica Infatti io mi considero Un po' matusa Perché utilizzo Spotify Per ascoltare musica Ma che c'entra la musica Dello Spotify Michele Dimmelo Rientra in quello sforzo Ma in realtà Non è un caso Perché rientra in quello sforzo Di Spotify Di farti ascoltare Meno musica possibile Perché oggi Il costo principale Di Spotify È il pagamento Dei diritti d'autore E degli artisti Quindi già poco Con cui Considerando il costo di Spotify Non riesce a fare Sufficienti soldi Metteteci poi Gli investimenti Non proprio azzeccati In passato E quindi L'obiettivo È massimizzare l'engagement Minimizzando la quantità di musica Che si ascolti È una missione Di fallimento Fallimento Del modello Di streaming Della musica Di Spotify Fondamentalmente Cioè sono Fondamentalmente Perlomeno quello di Spotify Esatto Gli altri player Sono ancora lontani Ci sta dicendo Sì però Di altri player Che fanno i soldi Adesso non so Se i vari Deezer O Tidal Facciano i soldi Apple Music È un altro discorso Perché ha altri capitali Quindi non ha bisogno Di far profitti Non so se qualcuno Ci fa i soldi Con la musica in streaming Sono assolutamente D'accordo Quindi facciamo bene A tenere la nostra collezione Di cd fisici Ben stretta Torneranno le cassette Esatto In tutto ciò Digitalia Sono anni Che cerca Di Farsi Prendere Da Spotify Come nuovi Joe Rogan Direi che oggi Siamo avvicinati Praticamente il contratto È firmato Dopo quest'ultima uscita Ma si sta scherzando Ovviamente Un saluto a Spotify Che ci ascolta Se lo comprerà Microsoft Spotify Alla fine O Google O Facebook Verrà integrato Come Apple Music Viene integrato Dentro all'offerta Di Apple Apple Plus E C'hai i video E i film E la musica E la ginnastica E tutto quanto Verrà Un po' dico peccato Perché è una bella Realtà europea Comunque No no Ma certo Non c'è la bella Realtà europea Ma non funziona Se spende più di quello Che guadagna È la bella Realtà europea Ma un paio di palle Come Twitter Che alla fine dei conti Tutti dicono Però alla fine Twitter Nessuno è riuscito A farlo funzionare A farlo guadagnare E purtroppo Come diceva giustamente Michele Al fine dei conti Capitalismo È quello che abbiamo E dobbiamo tenerci Perché le alternative Una valida Nessuno è riuscito Ancora A farcela vedere Allora Posso investire 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 Ma a un certo punto Se non torna Qualche cosa indietro Non si può andare avanti All'infinito Su questo Su questo Non c'è dubbio E a proposito Di interfacce utente Che cambiano Ma non troppo Per non scontentare Avete visto sul sito Di Digitalia Le novità Vi abbiamo messo Con una lunga sessione Di coding remoto Io e il buon Facconi Abbiamo lavorato Cioè fondamentalmente Ha fatto tutto Facconi E io dicevo Sì così Giusto Bravo E tu guardavi da remoto E vi abbiamo messo Oltre alla trascrizione Che ora è anche ricercabile Per cui qualsiasi Cosa abbiate sentito dire Su Digitalia Se la cercate Con termini Più simili possibili A quelli che abbiamo detto Li trovate Con la casellina di ricerca Sul sito Perché cercano Le trascrizioni Almeno da 6 episodi A questa parte Più indietro Non siamo andati A creare le trascrizioni E inoltre Vi abbiamo aggiunto A fianco al player La copertina Dell'episodio Che quindi Oltre a vederla Nei podcast player Che supportano Le copertine singole Per ogni episodio Ve la trovate anche Sul sito Fresca fresca Tutti i martedì mattina Almeno potremmo dire Che le intelligenti Eserficiali Questi sistemi Di creazione delle immagini Sono serviti a qualche cosa Per migliorare Almeno l'umore Del martedì mattina Perché ovviamente Cerchiamo di fare Qualche cosa Sempre nello stile Digitaliano Che sia Semiserio Semidivertente E più o meno Ma non completamente Fuori tema Rispetto a quello Che abbiamo detto Durante la trasmissione Un ultimo argomento A scelta Che cosa vi piace Che cosa vi piace Quello della Volkswagen La pizza di Aranzulla Non la pizza di Aranzulla Per favore Tim Cook Che ha detto Nuovo report Pare che Il team di design Di Apple Volesse ritardare L'uscita Degli occhialazzi VR Di uno o più anni Perché il prodotto Non è pronto Finché non è gestibile Indossabile Come un normale Paio di occhiali Pare che Tim Cook Abbia forzato la mano E aveva detto Si fa adesso Anche se voi pensate Che non sia pronto Datevi una mossa E cerchiamo di accelerare Si parla di 3000 dollari Di prezzo Pensano di venderne Circa un milione Di unità Durante il primo anno E stanno preparando Un marketing blitz Per il prodotto Più avanti Nell'anno Si gioca la sedia Tim Cook Qui sopra Francesco Secondo me Tim Cook Più che altro Si gioca la sua legacy Questo è il primo E a questo punto Forse l'ultimo Se va come pensiamo Un prodotto Veramente disegnato Da lui Probabilmente si sta Un po' Steve Jobsando Nel senso che dice Dai Fatelo uscire Ce la potete fare Un po' Non so Non so se È l'unico Prodotto Sì Dal punto di vista L'unico Disegnato interamente Da lui Dall'inizio Apparentemente Secondo te L'orologio Era già in preparazione Prima di L'orologio Ha avuto Se non mi sbaglio Un qualche cosa Non è completamente Della sua era Questo è veramente Totalmente suo Anche per quello Che comunque È un prodotto Pare Su cui si giochi molto Sicuramente come Credibilità storica Poi insomma La sua sedia È bella ancorata Ma secondo me Vedremo Ecco Un milione di pezzi Sta preparando La fuga Tim Cook Credo che Da come l'ho visto Nelle ultime Nelle ultime uscite Non lo so Non lo vedo Non l'ho mai visto Praticamente entusiasta Perché non è mai stato Un uomo di facili entusiasmi Però anche dalle mezze parole Che sono uscite Nelle interviste Non lo so Secondo me Ha realizzato Che il suo fondo pensione È abbastanza spesso È abbastanza solido E dice Ma chi me lo fa fare Mi levo dalle scatole E quindi probabilmente Vuole uscire È quello che l'aveva messo Tutto nella silicon valley bank Quindi adesso Devi cominciare Per quello che ci tiene Che escano Ma tanto Biden Gli ha detto Non ti preoccupare Tim Il tu perfafoglio Te lo salvo io Vieni che ti apriamo La cassa E qui Non ti preoccupare Comunque Il fatto che escano Non escano Ma un milione di pezzi A 3.000 euro La vedi dura Ci voglio Ci voglio credere La comunità Di sviluppatori appassionati Secondo me Ci arrivi Un milione Un milione Di utenti Per Apple Non sono Non sono Una cifra Gigantesca Però Dipende molto Da cosa ti dà Questo prodotto E che cosa ti fanno E che cosa ti fanno Dal punto di vista Dello sviluppatore Devono Devono Sedurti Molto Oggi E farti Credere In qualche modo Che Ci sia Un'ondata Di Tra virgolette Benessere Come c'è stato Solo con iPhone Nel primo periodo Per cui No Possibilità Per tutti Non solo Per i giganti Di competere Gente che diventa Non dico ricca Ma che comunque Si mantiene Sostanziosamente O si riesce A mettere su Un piccolo studio Una piccola professione Semplicemente Con quello Questa magia Che è andata Piano piano Svanendo Sul mondo iPhone Con pochi Che resistono Non si è mai Ripetuta Né col tablet Né col orologio Nonostante Le promesse Di Apple E Quelli sì Che gli sviluppatori Sono tutti corsi A comprarli Perché Perché se sono Il primo A sviluppare La nuova app Che esce Sull'orologio Strafiga Apple mi renderà Ricco Ecco Nessuno è diventato Ricco Con un'app Per l'Apple Watch E Per cui L'Apple TV L'ha promesso Idem Per cui ecco Abbiamo un quarto Data point Importante Perfetto Per cui io Boh Di trovare un milione Di sviluppatori Che credano Che questi acchiali Qui possano ripetere Il boom Del telefono E aprire Frontiere nuove Di lavoro Dovrà essere Molto convincente Dovrà essere Molto convincente Vediamo Anche perché In questo momento Una tecnologia Che sta Tirando l'attenzione Delle persone Che vogliono Diventare ricche C'è già E si chiama LLM Barra Intelligenza Artificiale Oggi Tantissimi Imprenditori Sono focalizzati Sullo sviluppo Di prodotti Stanno mettendo Capitali Lì Avere due Tecnologie Competitive Un po' Meno solida Un po' Più Indietro Di cottura A livello Di mercato Quando c'hai ChatGPT Che ti fa 100 milioni Di utenti Nei primi mesi Ecco Diventa più complesso Ma io mi chiedo Ma io mi chiedo Ecco Se dobbiamo parlare Appunto Di legacy Di eredità Di Tim Cook Per quanto Possa vendere Un milione Di mascherine Da sci Connesse Come quelle Che sembrano Essere Questi occhiali In VR Io penso Che Quello per cui Verrà ricordato Di più Sarà proprio L'occasione Persa In materia Di intelligenza Artificiale Cioè Ragazzi Pensiamo Ai numeri Che sta facendo ChatGPT Con un prodotto Che alla fine Non è Non è Veramente Ancora Niente Di No Veramente Utile In termini Concreti Se non In casi Molto Particolari Ed è Una bella Speranza Per un futuro Abbastanza Vicino Però Ragazzi Questi sono Partiti Da zero Tim Cook Da Quanti anni Oramai Sette Otto Anni Ha Un dispositivo Ne ha infilato Una copia Nella tasca Di ognuno Di Centinaia Di milioni Di persone In giro Per il mondo Sto parlando Di Siri Pensate a Siri A quello che è A quello che è Sempre stato E a quello che non è Mai riuscito A essere Immaginatevi Un Siri Con anche solo Le capacità Cioè Chapter GPT Supera Siri Di un miliardo Di volte E com'è possibile Che Tim Cook Abbia perso Un'occasione Del genere Con una base Già installata Già pronta Di persone Che è una roba O Alla prossimo Di solito Siri evolve Da un anno All'altro Invece che Incrementalmente A ogni WWDC O al prossimo WWDC A giugno Viene fuori Con un Siri Che è Al livello O superiore Dell'attuale Chat GPT GPT3 E compagnia Se no è veramente Un fallimento Colossale Ma c'erano Dei rumor Che pare che Apple stesse Considerando Finalmente Questi tipi Di modello Come generatori Finora esclusi Proprio in quanto Non controllabili Come output Quindi Ah è vero Apple Fuoriuscibili Dal wallet garden Apple ha quel grosso Problema Di avere Bisogno Esatto Però pare che Stesse considerando Appunto Perché come dici tu Se Siri Già finora Era un po' Come dire Al limite Nei confronti Di una buona Alicchia E Google Home Adesso Messo di fronte A questi sistemi Fa veramente Brutta figura Sì Decisamente Va bene Dai Gingili del giorno Signore e signori Gingili del giorno Gingili del giorno Sono i regali Dei digitaliani Per i digitaliani La puntata di Italia Si chiude Sempre con I regali Che vuol dire Le segnalazioni Le voci di Italia Scelgono per voi Hardware Software Letteratura Qualsiasi cosa Che abbia Attinenza digitaliana Che abbia colpito La loro curiosità Stravolto La loro esistenza O qualsiasi sfumatura Nel mezzo Vediamo un po' Un commentino Francesco Francesco Vuoi cominciare tu Molto molto Volentieri Allora parlavamo Giustamente di Spotify Compagnia E uno dei miei problemi Per farlo personalmente Più grandi È la Discovery Di nuova musica Perché Gira che ti rigira Anche se parto Da qualcosa E poi mi riportano Sempre a casa Sempre con gli stessi Quattro pezzi Allora Probabilmente Molti di voi Avranno visto In libreria Qualcuno Un sito Completamente gratuito Che di fatto Ha il database Di uno di questi libri E crea Randomicamente Per ogni utente Un'esperienza D'ascolto Di questo libro Scegliendo Ogni giorno Nei soli giorni feriali Si può impostare Anche per i weekend Un nuovo disco Ti pone Ti porta direttamente Il link Al tuo servizio Di streaming preferito Che può essere Spotify Apple Music Eccetera E Il giorno dopo Te ne propone un altro E ti chiede di valutare Con Semplicemente Le stelline da 1 a 5 Il disco precedente Grazie al quale Poi ti crea Una tua Come dire Una tua classificazione Per genere Ti dice Ma si Rock anni 70 Ti piace Mentre la techno Anni 90 Un po' meno E così via Molto molto carino Soprattutto perché Veramente Con questa idea Con poca fatica Ogni giorno Si ha un album Diverso Un album innanzitutto Diverso Da ascoltare Ed è un modo Per farsi un po' Di cultura Discovery In alcuni casi Dire Oh quant'è Che non l'ascoltavo In altri casi Dire Ah cavolo Però questa Bello Oppure Ma no 1001albumsgenerator.com Non serve neanche niente Per registrarsi Via che si mette la mail E ti crea un link Te lo sarai nei bookmark E via Grazie Grazie Francesco Michele Sei pronto Allora Se avevate bisogno Di qualcosa di nuovo Da selfostare Una delle ultime cose Che ho installato Non si distingue Non si distingue mai Il selfostatore compulsivo Seriale Esatto Se tra i pochi servizi Che vi sono rimasti Magari c'è ancora If this then Detto Zapier C'è questo NA10 Che fa Più o meno Questo Quindi È un orchestratore Avete Un paio di centinaio Di connettori Che comunque Sono meno Di quelli di Zapier E credo anche Quelli di If this then Detto Però ovviamente Il fatto di averlo Sul vostro serverino Che magari copre Quei servizi Che utilizzate Che magari Non sono 5000 Ma che utilizzate Più spesso Quindi Slack Ce l'ha Trello Ce l'ha Notion Ce l'ha Con la Tutta la possibilità Di personalizzare Qualcosa Che appunto Avete sul vostro server Che comunque È più aperto C'è anche la possibilità Di scaricare Dei blueprint Di ricette Nel momento in cui Non volete stare A creare Il vostro Il vostro flusso Ecco Secondo me È una bella Una bella alternativa Ed è un bel modo Di passare ore A smanettare Con le API Di questi Di questi servizi Appunto Con un docker Si parte In pochissimi In pochissimi Minuti Ovviamente Meglio se avete Un dominio Perché poi Tutte le chiamate Delle API Riescono a tornare Sul vostro computer Anche se poi In realtà C'è tutto Un sistema Di tunneling Che vi permette Di Se avete dei problemi Di appunto Utilizzare Il loro Il loro sistema Di tunneling È gratuito Nel momento in cui Siete sul vostro Servizio di casa Se poi lo volete Portare in azienda Ecco magari In quel caso Dovete pagare Qualche cosina Lo trovate su N8n.io I casi sono due O Michele Prova questi servizi In self hosting E poi li cancella Subito Immediatamente Docker Container Remove Purge Meno O O robe del genere Oppure in casa Non ce lo dice Ma un super computer Da 8 miliardi Di petaflops A memorie organiche E non ce lo dice Oppure c'è Che viene pixelato Esatto Oppure c'è un lucco Di tipo Quasi 10 anni fa Che soffre Che soffre un po' Però Più o meno Mi manda avanti Vabbè Un giorno ce lo farai vedere Dal vivo Grazie Michele Abbiamo parlato di Siri Di chat GPT Questo è Un gingillo rotto Un gingillus Gingillus fractus Se vogliamo mantenere La dicitura latina Vi piacerebbe Rimpiazzare Siri Con chat GPT Sarebbe una Bella Una bella idea Ebbene Qui avete Un gingillo Una pagina Che è un progetto GitHub Che vi permette Di farlo Semplicemente Installando Un Come si chiamano Una Una macro Come si chiamano I comandi Quelli di Quelli di IOS Le In italiano Hanno Il nome Shortcut Perfetto Perfetto Uno shortcut Proprio quelli Si chiamano Semplicemente Comandi Nella versione In italiano Se non ricordo male Lo installate Vi chiede La APKey Di OpenAI Che generate Tranquillamente E gratuitamente Sul sito Di OpenAI Dopodiché Vi permette Di dire A Siri Ehi Siri Chat GPT Ad esempio E Siri Vi permette Di parlare Direttamente Di interrogare Chat GPT Purtroppo Non riesco a farlo Consonare E quindi Ve lo cito Perché sono sicuro Che ci sia Qualche smanettone All'ascolto Che si metterà lì A cristare Come me È solo l'idea Di riuscire A fare Questa cosa Fighissima Che impressionerebbe Il cento per cento Dei propri amici In qualsiasi comunità Int Da quello Che ho provato A capire Molto velocemente Nella mezz'ora Prima della trasmissione Credo che sia Semplicemente Un problema Di Localizzazione Credo che funzioni Con la Se si mette L'interfaccia Del sistema In inglese E nel momento In cui è in italiano Per qualche motivo Di strana compatibilità Delle stringhe E di robe del genere Non funziona Però potrei sbagliarmi Provateci Io ci proverò ancora Se volete Ci sentiamo sul nostro Slack E ne parliamo Digitalia.fm Slash Slack Ve la ricordo Colgo l'occasione La chat Multicanale Di Digitalia Dove parliamo Di tutte queste belle cose Di tutto quello Che abbiamo parlato In trasmissione E anche di quello Che vorreste Di cui Vorreste che parlassimo Nelle prossime puntate E anche per oggi è tutto Siamo ai saluti finali Le orecchiette fresche Sono quelle che dovete portare Sono le orecchie Dei vostri amici Proto-digitaliani Predigitaliani Se parlano di queste cose Se hanno letto qualche cosa Sul sito A destra A sinistra Ma Voi volete renderli Digitaliani veri Gli dite Cerca Digitalia Su qualsiasi Casellina di ricerca Che vi compare Beh Su YouPorn Non ci siamo Ma in tutti gli altri posti È facile che ci trovino Principalmente Ovviamente Se li mandate Sulla loro O la vostra Applicazione Per ascoltare I podcast preferita Qualora loro Non avressero una Gli dite di cercarci lì Sennò YouTube Twitch Su Google Buon vecchio Google Non chiedetegli Di digitali associati GPT Che fa dei casini Che non ve li immaginate Neanche Però alla fine Probabilmente Riuscirebbero ad arrivare Sul sito Anche passando di lì Noi cercheremo Ovviamente Di farvi Fare bella figura Direi che per questa 665 Ah a proposito La prossima è la 666 Io a proposito Scappo Perché ho paura In vacanza Lascio le redini A Francesco Michele E Sarà un caso Ecco esattamente Sono preoccupatissimo Ma sarò lontano Molti molti chilometri Per cui spero Di riuscire A sfuggire Agli strali Della belva Che riusciranno A fomentare A richiamare Dagli abissi Lo Cthulhu Di turno E allora Per questa 665 È tutto Dall'emistudio Ligure 1 Di Sanremo Un saluto Da Franco Soleri Allo sud Di Milano Isola Un ciao Da Michele Di Maio E dallo sud Di Milano Città Studi Un ciao Da Francesco Facconi Ci risentiamo Digitalia Torna come sempre Lunedì prossimo La settimana prossima Con una nuova puntata Di Digitalia Grazie a tutti